e come all'improvviso sopra il cielo e il paradiso buona serata buona serata a tutti buona serata e buon divertimento per il 2 giugno un abbraccio dall'ora dello zenzero oggi vi son mancato forse a qualcuno un salutone a tutti un abbraccio da villarosa enna con affetto e sincerità a tutti un abbraccio veramente di cuore un salutone a tutti come sempre villarosa deserta e sono le 9 20 oggi caldo caldo copilo un abbraccio dall'ora dello zenzero un abbraccio a tutti un abbraccio di cuore questo è una un saluto che vale come un buon giorno come un buon pranzo come un buon caffè e come all'improvviso una buona serata una buona continuazione una buona notte a tutti un salutone con tanto affetto a me i massaggi mi arrivano saluto ivan calà ciao dolce reina josé gialluigi cacciato ciao gialluigi vincenzo d'amico giuseppe spoto ciao a tutti un salutone a tutti un salutone con affetto e sincerità a tutti e come all'improvviso sopra il cielo al paradiso la diretta si stava bloccando perché sono arrivati qualche chiamata salutiamo a tutti salutiamo urban salutiamo angelo salutiamo salutiamo a tutti dal il gruppo zenzero ivana baglio ciao ivana salutiamo mio compare emanuele alfonsino nicosia salutiamo zappatore un salutone a tutti ciao fina fabbio termine dopo voglio fare gli auguri a mia sorella rosa ciao debbra saluto mia sorella fina e mia cugina fina jessica occhio saluta erminio filomena claudio ciao claudio ciao daniela ciao daniela saluto antonino saluto angelo saluto anna un abbraccio oggi c'è troppa troppa stanchezza troppa stanchezza scusate che non sono venuto in diretta per motivi buro per motivi burocratici ciao grazie a maria amico maria calabrese maurizio ciao maurizio saluto a tutta centurio per mimma guarneri buona serata dalla sicilia villarosa in un abbraccio a tutti ciao mimma dal brasile ciao rosina un salutone a tutti un salutone veramente a tutti dall'errata allo zenzero un abbraccio oggi non so a che ho mancato ciao giusi giardina giusi spisa gianni nasca antonino un abbraccio un abbraccio veramente di cuore un abbraccio a tutti oggi troppo impegno troppo impegno troppo troppo impegno fine manuele ciao compagno a manuele oggi è fatto il compleanno mia sorella rosa auguri che c'è su tante faccia ma raga vio tutte cose claudio siriani non vedo maglia rossa non vedo maglia rossa va bene fettoso ci sei tu e tutta l'orda di tua mamma cascia eris ma sei uno schifoso bestia ingrasciato perché se tu effettivamente quel cazzo ti fa meschiare dalla nostra bella madiretta che io voglio salutare tu sei un fettoso sei tu e tutta la tua generazione pezzo di merda ma mi stavo scappando va bene ma non l'acqua si annuvola questo è un vetente sei un vetente sei un vetente ingrasciato ci sei tu e tutta la tua generazione pezzo di merda con tutte le scarpe e con tutte le cose che hai sei tu un pezzo di merda ciao bruno ci sono due tre elementi che sono veramente fanno dei profili bassi aveva sai io sono stato oggi coietto siccome ci sono questi due cretini ignoranti ciao giuseppe lentini maria guarneri ciao ma ma bruno martorale ciao sei tu un pezzo di merda pezzo di merda sei tu capito fettoso ingrasciato c'è tu e tutta la tua generazione sia ricchi mi senti ok buonanotte buonanotte ci sentiamo un abbraccio dalla sicilia di poppedo ciao ciao ciao